Ma guardi, sicuramente se ne parlerà, lì il punto è chiaro, cioè si tratta di un atto che noi abbiamo votato, che noi abbiamo promosso e quindi i sei punti che le regioni promuovevano, cinque sono stati già accolti dal Parlamento e l'ultimo che rimane non è stato accolto. Per una decisione politica, quindi bisognerebbe evitare di fare e di sfare, io credo che l'unico tema da affrontare oggi sia questo. Poi è ovvio, se c'è chi ha una posizione diversa, proprio perché siamo un partito democratico non ci sarà nessun tipo di atteggiamento, diciamo, di condanna assolutamente, insomma c'è totale libertà in questo, però è chiaro che il partito democratico ha una posizione che fa riferimento a quello che facciamo qui dentro in Parlamento, sarebbe strano il contrario.